Ma... Capito che... Tizio... Adesso che arrivo a Calasari Devo toglierti questo maglione... Sai... Mi fa un prudito tremendo... Lo sai che è una macchina passiva? Ma tu... Sei sempre il solito pistone! Ma... Mami... Ehi... Ehi... Io vado a fare la doccia... Chi vuole di sé è qua... ... 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 E' tranquilla, ma così tranquilla, un po' da casa, si chiama Gioneta, non è il bordo che non ce la vado ad attacchiarmi, e potremmo rispondere a l'università, boh, 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 boh. E' molto fattiva, dice, that stavos sei una da metà, non sei nefatteis, che all'estrano il riscore. Ma te posso fare una mie conini. Ma poate scape al fracosso. Ma, tu mare Maria, tu sai? Pina, 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 haciana, munga, sampata. E allora sì, un po' più riuscire a annullarla con la colpa. Ciao amici! Mamma ti dice? No, e tu cosa che posso dire? Come? Tu posso dire che mamma? No, come? Comunque, guarda linda! C'è lì, 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 c'è lì. C'è lì, 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 c'è lì. C'è lì, c'è lì, c'è lì, c'è lì, c'è lì, c'è lì, c'è lì! No, non ci conosci, ma non ci conosci. La prosciutto che facciamo farlo! Vanno, tu sia lì? Ma... E tu, tu? Un cieca si tratta di un'altra parte, se non è tutto la verità. E' un'altra parte, se non è tutto il mondo. E' un'altra parte, se non è tutto il mondo. E poi, come il tuo ex, lo sai? E poi, si sapeva, la propria scienza di gialla, per il dono da questa cebolinetta. Aveteci, ma che bellezza. Che bello mi venire ad andare con un pazzo di più. Pronto? Sì una scoperta! Voglio andare a trovare un piccine per una grande grande konse! Momma, dimmi la dove cos'è il per Ne? Oh, papà! classe! Oh, deficit Go! Sonora ma! Poi lo smываем a rima! Lavoro diений non è perso bambangale che userbbe pensare come si è il mio figlioautofone Comunque, Niccolò, me laștepr jam è per successive appearaturasse Ma non ci sono mai Ma no! Il Paolo dollare! Ma che ricche? Ma che ricche? Ma che ricche? Eh non è così È così cominciato la mia maglie! O.O.O.O.O.O.O cosa è successo? Madonna benedetta Madonna benedetta ma preghiamo affinché i signori ci nominano Che se? Non lo so Ma poi dove prende già l'ultima dolls Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.